10.000 metri quadrati di esposizione tra interni ed esterni con oltre 200 espositori con il meglio dell'artigianalità italiana, del mobile, del design e di tutto quanto rota intorno alla casa. Torna alla fiera della casa nei padiglioni e nei viali della mostra d'oltre mare di Napoli fino all'8 luglio, ingresso gratuito. La 61esima edizione rilancia anche il cinema all'aperto. Nella zona della Fontana delle Sedere è stata lessita un'area cinematografica da 400 posti con un ricco cartellone di film. Si comincia con Prima di lunedì di Massimo Cappelli con Vincenzo Salemme, ma le giornate e le serate della fiera saranno ricchissime di eventi, quasi 90 quelli in cartellone nelle 10 giornate. Oggi raduno nazionale del Udo Bus organizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Progetto Uomo nell'ambito del progetto Una città per giocare, con l'intervento dell'assessore del Comune di Napoli Roberta Gaete e del presidente della mostra d'oltre mare Donatella Chiodo. Attrarre i bambini, e io insisto sempre, e i loro genitori soprattutto. Il gioco infatti non è soltanto rivolto ai bambini, ma soprattutto rivolto ai bambini e agli adulti, perché bisogna non solo rimparare a giocare, ma stabilire relazioni attraverso il gioco. Noi ormai come amministrazione aderiamo a Una città per giocare, che è un programma proprio nazionale come città, siamo la più grande città d'Italia, e con l'associazione Ali per giocare, che è qui presente attraverso anche proprio la presenza fisica dei ludobus da tutta Italia, noi pensiamo davvero che la cultura ludica possa fare la differenza anche in termini di prevenzione, di costruzione, di relazioni. La nostra cittadinanza deve venire innanzitutto, deve venire a vedere tutte queste novità, perché abbiamo ripensato questa fiera della casa anche attraverso eventi all'interno di un contenitore che è molto vissuto dalla città, e la nostra idea era di fare in modo che anche i bambini e i giovani iniziassero a costruire dei ricordi.